Ciao ragazzi e bentornati sul mio canale, io sono Magnus Ritorniamo sempre qui su FIFA 20 carri di allenature e crotone A volte bisogna ritornare anche sui propri passi Anche se si sbaglia, cioè nel senso che anche se andiamo male Abbiamo avuto un bar nome luce e ritorniamo indietro Io una prova la farei sempre Perché non lo so se a volte è FIFA Se a volte sono io che preferisco un modulo Però è sempre meglio provare Giochiamo quindi con il vecchio schema Ma con qualche cambiamento Verona Verona dovrebbe stare all'altra parte Aspettate però, se vinciamo che succede? Una mazza, fantastico Ok, questi stanno... Vabbè forse... No, neanche perché non hanno ancora giocato Mamma mia Comunque dobbiamo vincere perché lo sapete Quest'anno gira male Ma proprio di un male Ma di un male pazzesco Chi mi sta deludendo veramente tanto Ma veramente tanto È Esposito Puntavo molto su Esposito Vi dico la verità Invece... Mica poi tanto Sì, giochiamo così Ho messo Crociata A destra Anche se non potrebbe neanche tanto giocare Però se lo metto la centrale È troppo offensivo Proviamo così Magari facciamo qualche altro cambio MRLS ci sta Sì, giochiamo così Anche perché a me nessuno me lo toglie la testa Ma noi creavamo tantissimo con questo schema Veramente tanto Per me è che ci mangiavamo Mille gol a partita Guardalo Guardalo L'hai ripresa Ce la fai Ce la fai Ce la fai Dalla... Ok Tutta sta preparazione Ero praticamente Ho detto Ma che stanno facendo Cioè voi non so se l'avete visto Ma avete visto La preparazione Ma non lo so Vabbè Se girà Cioè Come facciamo secondo voi A tirare di prima così Occhio Ok Raga Non li facciamo Prendere tutti sti Sti metri a campo Perché poi Va a finire Questo non è fallo È buono È buono per Zanellato È buono per Zanellato Aspetta che non mi trovo Ma perché Mannaggia Vlaovic Ma stavi in mezzo Perché non ti sei lanciato Ah Zanellato Buono Eh Mannaggia Ah Ok Vlaovic Bravo Si sta scatenando Non segna È buono È buono E vabbè Però Calaggia subito giù Bella sta palla Bella Allora Al centrocampo Lo stiamo messi bene Provano aprire La scatola Difensiva Avversaria Ok Uuuuh Mamma mia Comunque Braibich Là Come cavolo si chiama È lentissimo È un difensore Lentissimo Per dare energie Fisica e psicologica Alla squadra Che è sotto Eh mamma mia Raga Però Wow Non so Un colpo di testa Facile Doveste potesse Saper fare Aia La mette in mezzo Oh Che paletta Buono L'anticipo Del difensore Alla crociata Alla crociata Questo è l'avversario Che attende La squadra ospite Nella prossima giornata Di serie A Dai barbutto Tira barbutto Mannaccia Forse la dovevo dare A La dovevo dare A manne che arrivava Dai Dai Ehi Ah Venga ma Dai Ehi Ma che tira Corna Non c'è Non sa staccare L'attaccante Che non sa staccare Atterratelo pure Tutti e due Sulla palla Tutti e due Sul giocatore Beh Fantastico Mamma mia Oh Mamma mia Ok Dai che è buona Dai 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 crociata Ehi E vai Mamma mia Alleluia Ma no perché Sei andata Esposito Bella palla Chi è che ha tirato Di sguincio Che poi Portillo ha fatto Una paratona Tremenda C'è Ah Ma che Ma per cortesia Ma noi vogliamo scherzare Dai Ma vogliamo veramente scherzare Passaggio in profondità Mi rimpalla Forse Forse però Ok Bravo Cordaz Sei il migliore Speriamo che poi Tutte ste preparate Poi Ce l'abbiamo fatta Ragazzi Ce l'abbiamo fatta Personalmente non mi ricordo Quale è stata l'ultima volta Che abbiamo vinto 2 a 0 Cioè sempre su misura Stavolta invece Abbiamo vinto Con soddisfazione E forse Dico forse Potremmo riprenderci Qualche cosa Tutta la soddisfazione Di 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 La nostra Adesso anche In un'intervista Di Dare un po' di tono Sempre ste figure di merda Ogni volta Adesso invece almeno Alta mattina Senza Le tipe Cioè Noi 2 a 0 Abbiamo fatto E tu vieni a sfottere Esposito Va bene Avete poca chance Di vincere Si aspettava questo risultato Vabbè Ma non siamo venuti qua Cioè non siamo venuti qua Per farci offendere Però eh Dai Una vittoria leggevole Con due gol segnati Alla squadra cotone Crede che sarebbe voluto Funire diversamente Il punteggio No Aremmo venuti Con più gol Dai ci spariamo Un po' la posa Dai Allora speriamo di essere saliti Un pochetto Sì sì Eravamo No Hanno ancora giocato Vabbè ma ci prendi in giro Però Che palle Io a questo punto Sinceramente la formazione La cambierei Visto che Abbiamo giocato bene Abbiamo fatto due gol Magari C'è un po' di Ottimismo Farei giusto Un cambio Magliette sicuramente Perché così Non possiamo Assolutamente giocare Mentre invece così Sì Ha messo Tear su quella fascia Che Non mi convince tanto Quindi io farei Una bella cosa C'è Centra Io ci metto Così E giocherei Con un Chi potremmo mettere Metto Barberis Anche se non so Barberis Quanto possa Essere Veloce Se no possiamo Fare così Guardate Naturalmente Facciamo giocare A Vlaovic Portare anche bene Tutto quello che volete Proviamo così Dai Ho fatto salire Un po' Blaesh Di Come si chiama Il nostro carissimo Amico Badia Schill L'ho fatto salire Un pochettino In velocità Che cosa Ma ne Vai in mezzo Vai in mezzo Vai in mezzo Era buona Era buona Oh Barbut Ma ne Potrebbe andare Bene a braccetto Che peccato Bravo Crociatino Bravo Crociata Non te lo perdere No Spazza via Fuori gioco Penali Ma non è vero Ma non è vero proprio Non ha proprio presa la palla Al portiere Portiere Ok 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 E' buona E' buona E' buona Vai barbutto Vai Guarda che forse E' buonissima E' buonissima Vai barbutto E' Vai mani Vai mani Perché ci ha messo tutto Su tempo Per stoppare Sta palla Mani Mannaccia No Bravi E' buono E' buono Ma questo è falso Sta ancora a terra Sta ancora a terra Bellissimo Mamma mia E' buono E' buono E' buono Se la dai E dai Ma porca paletta Porca paletta Sempre lo stesso discorso Sempre lo stesso discorso Cosa ci sta barbutto Che se n'era andato Sta palla Perché mi ha dato a giù Non lo so E' buona E' buona E' buona Barbutto Troppo sul primo palo Barbutto Questo tira E' buono E' vabbè Ma Mi dico Quante volte Mi devo incazzare Scusate Ah Vattene in velocità Vattene in velocità Dai E' fallo E' fa' Ma scusate Ma quello non è fallo Cioè qua Ci sono Delle fazioni Cioè vanno contro Cioè vanno contro Il crotone Perché non è possibile Vanno sulla fascia Vabbè comunque Non ci lamentiamo 1 a 1 Cioè 0 a 0 Scusate Ci stiamo mangiando Un sacco di gol Dobbiamo capire Secondo me bene Alcune cose Perché Non sono soddisfatto Ma neanche un poco Di sottile E possiamo migliorare In sottile finale La soddisfa Hanno giocato bene Entrambe Anche se forse Noi forse Un po' che no Il vostro obiettivo Sì dall'inizio Ma anche no Puntiamo a vincere tutte Grande mister Grande Di generale Sono tra i migliori In campo Ma perché ogni volta Ci fai queste domande Sui altri giocatori Ma che me ne frega A me E' un ottimo giocatore Ma vediamo Se siamo Almeno saliti Un pochettino Vabbè Siamo dodicesimi Qualcuno No perché Non hanno giocato Ma perché giochiamo Sempre prima noi Ma che palle Perché ci fai giocare Sempre prima Che vogliono In ufficio C'è qualcuno Che vuole chattare Chi vuole chattare E' triste Gomet Chi se ne frega Vuoi giocare Hai bisogno di giocare Mamma mia Ha battuto Addirittura Gomlet Lo facciamo giocare Magari ci dà soddisfazione Vabbè Dai Ti faccio giocare Voglio vedere Veramente Che cosa mi convini Se mi sbagli La partita Dispezzo le gambine Però Giocavo pure con la Roma Tra parentesi Poi Non mi vorrei sbagliare Ma se mi sbaglio Dopo ci sta la Coppa Coppa Italia Quindi qualche cambio Lo possiamo fare Figuriamoci Giocavo pure con la Roma Mamma mia Dobbiamo stare Veramente molto attenti Non stiamo seguendo I piani Ma quali piani Ma per cortesia Allora Con calma Siamo sempre Siamo dodicesimi E tra parentesi L'Inese è anche Già giocato Vedete un attimo La classifica Giusto per curiosità Comunque Siamo saliti parecchio Perché adesso Siamo già fuori Da questa la Roma E la Roma Sta sempre là La Lazio Perciò stava La nostra portata Vabbè Se la memoria Non mi inganna Avevo già visto Sì Coppa Italia Contro il Chiavale Tra parentesi Allora no Facciamo così Secondo me possiamo Più giochicchiare Col Chiavale Ce la possiamo più giocare Sicuramente Quindi magari Cerchiamo Una formazione Un pochettino Migliore Con la Roma Ma se no prendiamo 60 palloni Ok Quindi Sicuramente Voglio far giocare Questo Gomlet Visto che me l'ha chiesto E anche triste E lo facciamo Giocare Allora Sottile No Facciamo giocare Merelles Dal primo momento Voglio far giocare Esposito Voglio vedere Come mi gioca E così Magari facciamo Qualc'altro campo Dai Dai vediamo di fare Espo Allora vuoi fare Un gol Quest'anno Oh manco uno Ne vogliamo fare Che dici Bella Vai in mezzo Vai in mezzo Vai in mezzo Non credo Ma Io non capisco Perché Esposito Non mi attacca mai La porta Oh guarda là Cioè sta sulla linea Ma Ma che cos'è Cioè ma Ma io lo so È in difensura Niente Vabbura Niente Barbutte Uuuu Che facciamo Ste cose Dai barbutto Vai Dai barbutto È fallissimo È fallissimo No vabbè Dai Non lo so Se non è fallo questo Dai Avanza 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 È buona È buona È buona Vai crociata Vai Ce la fai Crociata Niente eh Già sai che Esposito Stava in mezzo È buona È buona Bellissima questa Bravo Oh Vuoi vedere Occhio di qua Occhio di qua Occhio di qua Non perdiamo La testa Questo è un risultato Questo è un risultato Importantissimo Ragazzi Oh buono Perché abbiamo fatto Una vittoria Un pareggio E una vittoria No Incominciamo qua A giocarci Da veramente bene Vediamo un pochettino Che cosa dicono Penso che a questo punto Stiamo salendo Veramente la china Non dico che potremmo Puntare all'Europa Vero Vabbè Non mi voglio Gasare troppo Perché sapete che Come si Montagne russe Si sale Si scende Si sale Però adesso Stiamo giocando bene Grazie per aver accettato Di rispondere Alle nostre domande Avrebbe finito Vincere con gol di schiarto È sempre una vittoria Ha avuto paura Dopo il gol Il senatore Oh Paura Ma di che Eh Ce la stavamo Facendo sotto Ecco Non dobbiamo subire Goli in finale Mannaccia Pellegrini È solo Tra migliori in campo E Conosciamosi I punti deboli Perché Non mi piace Questo fatto Che ci fanno La domanda Sopra il giocatore Dell'altra squadra Beh me ne frega proprio Allora Voglio capire Vabbè Ci sta la Coppa Italia Ci diciamo Un attimo La crescita Che è importante Dobbiamo fare Cambi Perché poi Parecchi saranno stanchi Però col Chiavari E Coppa Cioè Chiavari sta in serie B Pensa ancora Perché non Non dovrebbe essere risalito Di Cassaccia Dovremmo fare Di Cassaccia Esposito Forse un gol Lo potresti anche fare Contro I Chiavari Speriamo Giochiamo Così Sì No No Non sono queste le magliette Perché Avanti Perché sto Fa sto bug Stato l'anno scuso Sto bug Quindi Esposito No Abbiamo detto che dovevo Fa giocare a Vlaovic Sì Giustamente Sbagliato Visto che Io farei Giusto un cambio Così Possiamo mettere Romero sicuramente Lo metterei qua A posto di Benali Io farei giocare un po' Merrieles Poi magari facciamo che cambio Giochiamo così dai Poi magari facciamo Troppo Toglierei giusto Ranieri Che sta stanco E poi Ci sono altri difensori centrali No Ho venduti Mi pare Giolemic E vai Giolemic A posto di Oh sì Così si riposano un po' Speriamo di aver fatto una cavolata Mi raccomando Mi raccomando Questo è importante Perché la Coppa Ci potrebbe portare Un po' di soldini No Ok Allarga subito sopra Bella sta palla Mamma mia Gigliotti Stai calmo Gio Stai calmo Vai Mane Vai Una volta è stato male Che se non è Riesce ad andartene In velocità Mamma mia Mamma mia Oh Ma che Scarparo Tremendo Sei uno Scarparo Tremendo Guardate Hai visto Barbuto Che cosa Che cosa ti ha combinato Barbuto Cioè Noi siamo a livelli Che praticamente Questo fa un cross Manca la palla No Barbuto E andiamo Sei stato punito Arbitro Sei stato punito Al portiere E' stato graziato 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 E poi Che capita Tutto apposito Bravo Barbuto Tutte le palle Ok Ritorniamo in position Tutti quanti Forza Ecco Mamma mia Oh Se ne è andato Però eh Con un po' Di for Non c'è nessuno Non c'è nessuno Ma dove stavano I difensori Gion Fa fallo Stiamo giocando Un po' male A difesa Così Ma Romero Non fa una mazza Ma che Che cavolo Sta facendo E' normale che è uscito No Devo cambiare Romero Perché E' imbarazzante Romero Cioè Sta in centro campo Ma sta facendo niente Barbaris Entra un po' tu Dai una svolta Perché ultimamente Ecco Bravo Eh Che mazzo Meno male Comunque ma Sempre sti Queste cose Penso che non si potrebbero Proprio fare Comunque Eh Diciamo che un altro attaccante Avrebbe fatto un gol Stupendo Vai Vediamo se ce la fai Ce la fai Ce la fai Ce la fai Vai Mereles Eh purtroppo Buono Buono Ho osato un po' troppo Scusami Mereles Ok E andiamo Un po' di fortuna Anche per noi Ogni tanto Mamma mia Raga Da quanto Aspettavamo Questi gol A culo Così Ma da quanto Ho sbagliato io All'ultimo Vabbè Abbiamo vinto E quindi Andiamo E continuiamo Avanti Anche nella coppa Sinceramente Ci siamo ripresi Ci siamo ripresi Veramente alla grande Secondo me Facciamo intervista Perché stiamo Segnando di più Secondo me Cioè nel senso Creiamo Più o meno Allo stesso modo Ma segniamo Un po' fortuna Perché Secondo me I rimpalli Sono fondamentali A volte non ci capino mai Sul match Sono felice Della prestazione Una vittoria Agevole Conduco i segnalati Crede che S'è voluto finire Diversamente Ma perché No Avremmo dovuto Vincere No vabbè Ora dobbiamo Pensare alla passiva Partita Non esageriamo Perché il Chiavari Poi mi dispiace Chiosa è stato Tra i migliori In campo Vabbè Conosciamo I suoi punti Deboli Lasciamo andare Il mister Ciao Ugo De Maglius Allora Vincente Per cui In campionato Siamo comunque Sempre Dodicesimi Che meno Quasi metà classifica Però siamo risaliti Perché Già è qualcosa Secondo me Vediamo l'ufficio Che cosa vuole Giustamente Partita spostata Giustamente Con il Piemonte calcio Giustamente Perché l'aveva fatto Vabbè Tra un poco Vi dico una cosa Stiamo a Fine dicembre Siamo a Natale Stiamo a Natale Perché stiamo 19 Quindi Prossima settimana Incomincia anche Il calcio Mercato Aspettate però Calcio Mercato Relativamente Perché C'abbiamo C'abbiamo Cash C'abbiamo 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 C'abbiamo